Mi chiamo Alberto Martorelli. Sono Angela, ho 67 anni, sono una pensionata. Io mi vaccino perché ho desiderio di tornare ad accogliere tanti clienti stranieri nel nostro bel paese. Perché sono veramente stufa di dover andare in giro in questo modo per difendermi. Io non ho voglia pazza di abbracciare mio figlio e mio nipote. Ho 71 anni e mi vaccino volentieri perché la vita ha ancora molto da darmi.